Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi è il 3 di maggio, ci ritroviamo dopo una lunga pausa dovuta al ponte, lunghissimo ponte del primo di maggio, lunghissimo anche perché poi come di consueto il 2 maggio i giornali non sono in edicola e di conseguenza non c'è nemmeno, non c'è stata nemmeno la rassegna stampa. Oggi siamo qua il 3 di maggio per iniziare questa nuova settimana insieme e la cominciamo come tutte le mattine alle 7.30 con l'informazione dando uno sguardo, una sfogliata ai giornali, quindi i titoli del Corriere Adriatico e del resto del Carlino, le edizioni di Pesaro Urbino. Cominciamo però prima dal calendario del giorno, vediamo il santo di oggi e poi le previsioni del tempo. Cominciamo dal santo, oggi sono due, sono i santi Filippo e Giacomo Minori. Il sole è surto alle 5.56 e tramonterà alle 20.14. Il tempo previsto per la giornata di oggi, siamo sul sito di trebimeteo.it, per quanto riguarda la mattinata, ecco un po' di nuvole che continueranno e persisteranno nel corso della giornata. Poi domani, giovedì, ecco il cattivo tempo, l'annunciato peggioramento che verrà marcato ancora di più nel corso del pomeriggio, mentre la sera, piano piano e la notte, il tempo migliora. Poi vedete venerdì, ampie schiarite, salvo addensamenti sulle zone interne e questa è la fotografia della Regione Marche la mattina di venerdì. Allora andiamo adesso a leggere i quotidiani e cominciamo dal resto del Carlino. La prima pagina è per la salvezza, tanto attesa e sospirata, della VL, la squadra di basket di Pesaro. Costa rimarrà ed è già al lavoro, non abbandono la nave, dice lui, ma non sarà facile. Dunque si riparte da Ario dopo la salvezza dei giorni scorsi. Poi sotto la testata, le fiamme d'amore della manager, sotto inchiesta per l'incendio di Fano TV, l'ex responsabile della fiera, giornalista nel Mirino. E poi il socialista Giancarlo Scriboni, che voleva far volare gli Aquiloni, la sua morte, tanti gli attestati di Cordoglio. Brucia la LG Mobili, vogliono farci chiudere, forti sospetti di dolo, le accuse del titolare dell'azienda di Cappone. Allora, cominciamo dalla notizia che ci riguarda, cominciamo dall'incendio dell'attentato incendiario a Fano TV, un attentato che c'è stato il 23 marzo scorso e sul quale si sta tornando insistentemente a parlare soprattutto sui giornali in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, perché ci sono degli sviluppi, ci sono come ben sapete tre persone indagate. E tra queste tre persone probabilmente una spicca più di tutte le altre, perché guardate la pagina di Marche, Emilia Romagna e Rovigo del resto del Carlino di oggi. Il titolo è mollata da un giornalista, ha fatto incendiare gli studi TV. Fano, tra gli indagati, c'è l'ex candidata alla Regione. Allora, chi sarebbe, perché usiamo chiaramente il condizionale, chi sarebbe la mandante, la presunta mandante, almeno secondo le indagini fin qui svolte dalla squadra mobile e dal commissariato di Fano? Sarebbe questa signora qua. Questa signora si chiama Antonella Zaccarelli, ha 52 anni ed è conosciutissima a Pesaro, in quanto per anni è stata direttore della Fiera Espositiva di Campanara, oltre a candidarsi alle ultime regionali del maggio 2015, con la lista Uniti per le Marche. Tra l'altro la signora, c'è un fermo immagine, se cercate su internet, dove siede proprio qui in questo studio e racconta come e che cosa avrebbe fatto nel caso in cui l'avessero votata. Quindi è stata qua dentro, nei nostri studi. E sosteneva Luca Ceriscioli, presidente, però poi non è stata eletta. Ma questa signora è anche moglie, ed è questo, scrive il giornale, elemento che complica un po' le cose, del presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, Alberto Trudi. L'esecutore, sempre per l'accusa, sarebbe un certo Fabio di Lucera. Queste sono cose che già sappiamo. 32 anni, muratore, uno con la passione dei cavalli, tanto che lui, dice che in questa storia non c'entra nulla, racconta che la Zaccarelli l'ha conosciuta solo perché lei e una sua amica frequentavano il maneggio in cui lui tiene la sua cavalla. E l'altra amica, quella del maneggio, Giorgina Lepore, classe 51, residente a Cattolica, sarebbe l'intermediare. Quindi anche lei sarebbe indagata. Questa è la storia con tutti i dettagli che scrive Alessandro Mazzanti sul resto del Carlino di oggi. Quindi acquistate il giornale e tutti i dettagli li avrete su questa pagina. Poi torneremo perché c'è anche il Corriere Adriatico. La pagina di Fano invece del resto del Carlino. Perdo 10 mila euro l'anno per colpa dei politici. È lo sfogo di Lorenzo Benoffi, ex titolare dell'hotel Regine, tuttora proprietario di due ettari. Hanno trasformato, dice lui, amareggiato questa zona in un quartiere fantasma perché intorno c'è e vedo solo squallore. Anche se a guardare la fotografia è un bellissimo posto, la zona delle terme di Carignano. Purtroppo è tutto bloccato, quel che resta dopo 25 anni di promesse. Variante alla statale, la regione, da valutare i costi e fattibilità. Sulla sanità, ipotesi al vaglio, intanto la politica si scatena. Mentre sopra la cronaca, la tragedia che viene raccontata in queste ore in tutti i telegiornali d'Italia, la coppia, marito e moglie, Giuseppe Pirocchi e Silvia D'Ercole, che abitavano a Scerni, in provincia di Chieti, che sono morti lungo un fiume mentre facevano, appunto, si stavano fotografando, facevano un selfie. Ebbene, questa ragazza, Silvia D'Ercole, 32 anni, era stata assunta alla Santa Croce di Fanno, nel reparto di medicina. In qualcuno, e soprattutto le colleghe, i colleghi se la ricordano molto bene. E ieri, quando hanno appreso la notizia, hanno subito fatto un sobbalzo. Colleghi shot to shock, perché la ricordano come una ragazza solare, piena di vita, brava, gentile. Era qui, dice, con noi, meno di due anni fa. Era qui, al Santa Croce di Fanno. Molti probabilmente ricorderanno questo viso, questo volto. Sulla Fanon Fortuna, invece, l'aeroporto di Fanno si indaga sul rapporto Santorelli-Eagles. I soci vogliono capire se c'è stato conflitto di interessi. I soci attuali, Ruggeri, che è il presidente, in questo momento della Fanon Fortuna, dice, un esperto contabile verificherà i conti e quantificherà l'eventuale danno economico. La nostra fontana va salvata, siamo a Fossombrone, Fossombrone che va in degrado, secondo il resto del Carlino. La nostra fontana va salvata, perché? Perché stanno in degrado, ma nello stesso tempo Cagli, invece, l'ha restaurata ed è tornata al suo antico splendore. Lo dice Renzo Savelli, i fondi per il recupero sono stati fatti fuori più volte, da Pelagaggia prima e dal sindaco Bonci adesso. Sotto, invece, un po', ecco, sotto un po' di notorietà questi giovani, questi bravissimi ragazzini, sono matematici di una scuola, sono una scuola di Calanciarino della classe prima B, si tratta di Samuele Signorotti della classe prima B e Tommaso Mezzolani invece della terza B, che parteciperanno niente meno che ai giochi matematici del Mediterraneo. Sono due alunni che hanno avuto accesso alle finali nazionali di Palermo del 6 di maggio. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico e allora in primo piano il turismo. Perché? Perché a Pesaro gli hotel che hanno aperto per i maxiponti, quelli del 25 aprile e quelli del primo maggio, adesso sono di nuovo chiusi. Bene le presenze grazie allo sport, ma a maggio un calendario praticamente vuoto. Timori per la viabilità del quartiere, supermercato all'ex cinema, Odeon, ma si rischia il Megacenter, l'opposizione con i camion sarà un caos. Mentre il Fano Calcio, l'Alma Juventus Fano, Ferrani carica il Fano, adesso conta soltanto vincere. E poi Scriboni, il lungo addio, l'Aquilone volato via, oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Soria, protagonista della stagione d'oro del socialismo. E anche qui la notizia della Zaccarelli indagata per l'attentato a Fano TV. E allora ripartiamo ancora da qui, questo è il titolo, Fiamme a Fano TV, Zaccarelli indagata, attentato a sfondo passionale dopo la fine di una relazione con un collaboratore dell'emittente, un'altra donna coinvolta, Giorgia Lepore, il direttore Ferri annuncia, mi costituo parte civile. E questo credo che sia il minimo. Dunque la notizia è che Antonella Zaccarelli, 52 anni, moglie del presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi, ex direttore generale di Fiere delle Marche, candidata alle ultime regionali con la lista Uniti per le Marche con Ceriscioli, è indagata per l'attentato incendiario alla sede di Fano TV, avvenuto il 23 marzo scorso. E con lei, oltre a Fabio Di Lucera, 32 anni, residente a Montecchio, ritenuto l'esecutore materiale, risulta indagata anche un'altra donna, Giorgia Lepore. E poi anche qui ci sono tutti i particolari su quanto appunto per quanto riguarda la notizia dell'atto incendiario. Sulla pagina di Fano, il Corriere Adriatico invece, la prima pagina, Fano Fortuna e bilancio congelato, l'analisi dei conti affidata all'esperto avrà il compito di verificare e quantificare l'esercizio dell'ex amministratore Santorelli. Mentre il Renzi bis, sapete anche a Fano si è votato chiaramente per eleggere il segretario nazionale del PD, a Fano anche qui Matteo Renzi ha trionfato, però hanno votato metà delle persone che si aspettavano al voto. Vittoria netta, ma crollo nell'affluenza alle urne rispetto al 2012-2013. A Fano la vittoria di Matteo Renzi è stata sancita con il 77,8% dei voti. Soddisfazione per l'elezione invece di Dimitri Tinti, capolista della stessa mozione in provincia all'Assemblea nazionale e quindi insomma adesso anche a Fano Comunque il Partito Democratico si sta un po' riorganizzando. Guardate questa fotografia che poi è una fotografia tratta da un profilo Facebook. Siamo alla Pineta di Ponte Metauro, una splendida zona verde. Pineta shock, ricoperta di rifiuti in una notte. Madonna Ponte, il parroco dice da vergognarsi. Rivolta social, lavoro straordinario per Aset che ha dovuto poi pulire, ripulire tutto il parco e raccogliere le bottiglie, bottiglie rotte trovate anche davanti alla chiesa. Campeggio del primo maggio da censurare, questo è il titolo. Urbino, da Mazzaferro fino a Miniera, strade Groviera nelle frazioni. L'opposizione torna a chiedere interventi anche fuori dal centro storico. Poi, profili, questa è la politica. Siamo a Colli al Metauro, la sfida per la campagna elettorale. Qui nella fotografia vedete il candidato sindaco di Colli al Metauro, Stefano Guzzi. Allora, c'è questa lettera che scrive Alain Profili, una lettera aperta a Stefano Guzzi che pubblica il giornale Il Corriere Adriatico questa mattina. La terza lista è quella dell'onestà. C'è anche una sorta di accusa nei confronti dell'ex sindaco di Fano Aguzzi. Poi, impianto di cogenerazione attesa lunga a 500 mila euro. Si parla di teleriscaldamento che entrerà in funzione a luglio, a terre roverische nel municipio di San Giorgio. Servirà al municipio, alla caserma e anche all'asilo. Poi sotto invece a Marotta, cocaina, marijuana e armi, pusher in manette. Blitz nella casa di Marotta quando lo spacciatore era a passeggio con i cani. L'ultima pagina è quella di Senigallia. Ospitalità e prenotazioni. La spiaggia ritrova slancio. Riapertura degli stabilimenti. Cincine, buoni presupposti nonostante la Tari. E poi sotto auto rigate, fusti di birra in mezzo alla strada. Anche una panchina rotta nei giardini del vivere verde. Allora, attenzione. Prima di salutarci avete visto, subito dopo il rosario di questa mattina c'è stato una clip, una clip di qualche minuto, dove abbiamo proposto un cartello. Questo che adesso il nostro regista ci sta mostrando. Eccolo qua. Fano TV cambia frequenza. Attenzione. È importante. Questa è una cosa che faremo, penso e spero, credo, domani, nella giornata del 4 di maggio. Comunque, al di là del giorno e al di là dell'orario che ancora dobbiamo stabilire, le cose importanti da sapere sono queste. Fate attenzione. Allora, Fano TV resterà sempre e comunque sul tasto del telecomando al numero 17. Quindi ci ritroverete sempre sul canale 17. Cambieremo la frequenza perché quella che il Ministero ha dato, quella sulla quale ancora stiamo trasmettendo, purtroppo non è visibile perfettamente nelle zone di Fano. Poi sul resto della regione è perfetto. Però sulla zona di Fano purtroppo ha qualche lacuna. E quindi siamo dovuti correre ai ripari. Il riparo è, la soluzione è cambiare frequenza. Quindi cambiamo e passiamo sulla frequenza 43. Che cosa succederà? Che quando faremo questa operazione, quindi dal 60 passeremo al 43, sul televisore di casa verrà fuori la scritta assenza di segnale e quindi lo schermo sarà nero. Ora, basta semplicemente risintonizzare il televisore di casa. Non dovete fare null'altro. Non c'è da toccare niente nell'antenna, non c'è niente da spendere, non c'è nulla da neanche un centesimo tirare fuori. Bisogna solo mettere mano al telecomando, entrare nel menu e fare la risintonizzazione. Torniamo un attimo in studio. Perché? Tra l'altro la sintonizzazione, ci sono dei televisori che la fanno in automatico, quindi di solito si fa di notte. Dei televisori lo fanno una volta alla settimana, ma dei televisori, quelli un po' più vecchi, la sintonia, la risintonizzazione non si fa in automatico. Bisogna farla a mano, manualmente. Allora, perché è importante farla? Al di là di Fano TV, è importante farla perché la lista dei canali va aggiornata. Perché il digitale terrestre offre ogni mese canali nuovi, canali che se ne vanno, però è importante che la lista sia aggiornata. Quindi una volta al mese andrebbe fatta questa operazione. Poi chi non la vuole fare, fa come ne vuole. Però è importante, a maggior ragione, proprio perché altrimenti non si riuscirà a vedere Fano TV, è importante farla giovedì domani. Ok? Quindi se avete bisogno, torniamo un attimo sul cartello, se avete bisogno, le informazioni le trovate, le metteremo sul nostro sito occhionanotizia.it, sulle nostre due pagine Facebook Fano TV oppure Occhio alla Notizia, oppure, e questo è importante, chiamate noi 0721 86 14 33, chiamate noi. Ok? Il numero 0721 86 14 33, l'abbiamo messo a vostra disposizione, vengo io a casa vostra a fare la sintonia del televisore gratis e quindi questa è un'operazione da fare, assolutamente. Bene, ci fermiamo qui, non ho altro da dire, ci vediamo stasera alle 20 e 30, stasera tra l'altro alle 20 e 30 c'è il telegiornale, ma poi c'è anche Primo Cittadino, l'appuntamento con il sindaco di Fano. Quindi se volete fare domande a Massimo Seri, al sindaco, le potete fare chiamandoci, intervenendo questa sera in diretta. Come sempre gli argomenti saranno tanti, abbiamo circa un'oretta a disposizione nella quale in questa ora il sindaco risponderà volentieri alle vostre domande. Grazie per averci seguito, ci vediamo stasera. Grazie per aver guardato il video.